Come si mangia il ristorante di Guetta? Il famoso rapper e lo chef Marco Badalucci hanno da poco aperto a Lugano la casa numero 6 bistro e noi siamo andati a provarlo. Posto molto carino con una bellissima cucina a vista. I piatti proposti strizzano l'occhio alla tradizione culinaria campana senza però dimenticare i grandi classici della cucina italiana. Siamo partiti con un botto tanti pasti, uno meglio dell'altro. Delle zeppoline da paura, una fantastica tartare con bufala caffero e polvere di caffè, il baccalà mantecato, le polpette della nonna, torta di scarola e le melanzane alla parmigiana. Se gli antipasti ci sono piaciuti, i primi ci hanno fatto volà. Una cacio e pepe fatta a regola d'arte che ci ha riportato a Roma e un meraviglioso pacchero con ragù napoletano. E mentre chiudiamo tutto con una freschissima crema al limone, bravo Guè! A noi la casa numero 6 ci è piaciuta un botto.